Shalom, shalom, shalom. Miei saluti alla Casa d'Israele, a coloro che cercano con sincerità la verità. E prima di iniziare questa lezione vorrei lodare, adorare e rivolgere tutto il dovuto al Padre Yehawah nel nome di suo figlio Yehawah Shai. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Munston per avermi insegnato questa verità. Yehawah Hashem, Yehawah Shai, volendo, tengo molto breve questo video qua. E ho trovato questo articolo online e questa è la dichiarazione che ha fatto il Papa un po' di giorni fa. E vado a leggere. Coppia gay, Papa Francesco in un documentario. Serve una legge sulle unioni civili. Ok. Ora andiamo giù a leggere. Le parole del Pontefice nel film Francesco del regista Evgeny Afinivski, presentato alla festa del cinema di Roma. Le persone omosessuali hanno il diritto. Queste sono le parole del Papa. Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Dice Bergalio. Continuiamo a leggere. Gli omosessuali hanno il diritto di essere parte della famiglia. Sono figli di Dio e hanno il diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere respinto o emarginato a causa di questo. Quello che dobbiamo fare è una legge per le unioni civili. Hanno il diritto di essere coperti legalmente. Mi sono battuto per questo. Lo ha detto Papa Francesco, intervistato in un documentario di Evgeny Afinivski, dedicato al Pontefice e presentato alla festa del cinema di Roma. Perciò, come avete letto qua, il Papa dice che gli omosessuali sono figli del Padre. E anche loro devono avere la stessa legge. Ora andiamo a vedere cosa dice il Padre, creatore di tutto, Yahawa, nelle scritture. Perché questi uomini qua, se li conoscete bene, sono pieni di menzogne, ingani. Sono loro i veri satanisti. Ok? Bene. Vado a leggere. Il libro di Levetico. Capitolo 20 Leggo da Versetto 13 Se uno ha con un uomo relazioni sessuali, come siano con una donna, tutti e due hanno commesso una cosa abominevole. Dovranno essere messi a morte. Il loro sangue ricaderà su loro. Avete visto? Qui il Padre dice, se un uomo ha a che fare con un altro uomo, riguardo ai rapporti sessuali, dovevano essere messi alla morte. È contro la natura e soprattutto è contro la legge del creatore. Andiamo a prendere un altro libro, dal libro dei Romani. Eccoci qui. Capitolo 1 E leggo da 24 Per questo Dio Yahweh li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo di disonorare fra di loro i loro corpi. Essi che hanno multato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato, servito la creatura invece del creatore, che è benedetto in attemio. Amen. Perciò, Dio Yahweh li ha abbandonato. Appassioni infame. Infatti, le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro la natura. Ok? Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna. Si sono infiammati nella loro bedigne Perciò, qui leggiamo che il Padre ha messo questo spirito su coloro che praticano queste cose. Perché il loro cuore non sono retti con il Padre e il Creatore. Perciò, li ha lasciato nelle mani di questi spiriti. Ok? Questi demoni. E ora andiamo a leggere un ultimo percetto e poi chiuderò. Eccoci qua, scusatemi. Stavo guardando qualcosa. Prima lettera ai Corinzi. Leggo da capitolo 6. E andiamo velocemente al versetto 9. Ok? Che dice? Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Yahweh? Non vi illudite, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effemminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori, erediteranno il regno di Yahweh. Perciò, qui, è ancora pieno, è ancora chiaro. Coloro che non seguono i comandamenti del Padre Yahweh, nel nome di suo figlio Yahweh Shai, non possono ereditare il regno. Perciò, se vi fate le domande tra voi, chi va ascoltato? Il Papa o Dio? Io direi, il Padre Yahweh va ascoltato e il Papa può anche andare in quel paese là perché è pieno di menzoni e bugie. Cercano di cambiare tutto. Questo fa vedere sempre che sono loro i cattivi. Spero che questa lezione sia stata edificante e vi lascio questa lezione nel sacro nome del Padre, nel nome di suo figlio Yahweh Shai. Shalom.